Se si ritenesca una nuova attrezzatura per dare un nuovo ruolo sempre più importante al Crodiaviano? Sì, questa è un'attrezzatura di altissimo livello, alta tecnologia, che prevede che si sottopongano a questo esame solo pazienti che passano attraverso protocolli di ricerca. Questa è la dimostrazione che il Crodiaviano ha questa mission importantissima, oltre all'assistenza, che è quella della ricerca. Il motivo per cui, come istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, manterrà le sue caratteristiche. È di recente, infatti, arrivata la richiesta anche dal Ministero di confermare a livello regionale il ruolo di questo istituto e la Presidente Seracchiani farà partire a breve una lettera in cui si dà il parere positivo per il mantenimento del ruolo del Crodiaviano. Vicepresidente Bontanelli, ruolo della ricerca del Crodiaviano nel Friuli Venezia Giulia. Sappiamo benissimo cosa significa questo IRCS per la nostra regione, per il nostro Paese e anche il ruolo internazionale che ha. Va mantenuto, va incrementato, va dato alla possibilità alle donne e agli uomini che lavorano in questo istituto, che fanno ricerca, che affrontano le cure da dare ai nostri concittadini, a tutti coloro che si rivolgono a questo istituto. La modalità di operare nel modo appunto migliore. E qui, con questo importante macchinario che oggi è stato presentato e che da dopo domani entrerà in funzione, continuiamo proprio in quella attività. Quella di mantenere nel tempo sempre alto il livello tecnologico per la ricerca e nello stesso tempo anche il livello professionale di coloro che utilizzano questi macchinari. Quindi il Croc rimane centrale nell'ambito della ricerca scientifica dell'Italia e in questo caso un fioro all'occhiello per il figlio di Venezia Giulia.